Mondo Fitness 2014, oggi 14 settembre, siamo agli sgoccioli, abbiamo avuto tre mesi intensi con più di 400.000 presenze. Sì, sempre di più le persone amano allenarsi all'aria aperta, ovviamente presentandogli tutte le notizie del settore. Qui viene gente che si allena a tutti i livelli, quindi questo è uno dei grandi segreti di Mondo Fitness. Allora uno poi nell'ambito di questo villaggio può scegliere le attività in parte o in modo nel mondo del fitness che sono più a sua portata. Però da lì grandi campioni, quindi Gil Lopez e Gil Cooper con questa lezione di trampolino di jump fantastica che è un'americana secondo me dovrebbe essere un esempio per tutti quanti gli insegnanti italiani. Poi i nostri grandi Marco Castellano, Stefano Eleo, Toni Rocco, ormai un pane bianco, una montagna di insegnanti che ormai sono leader a livello nazionale e anche internazionale. E in più intorno a tutto questo contenitore del fitness, tante altre attività come il padel che ormai è di grandissimo successo, un gioco che viene dall'Argentina che è esploso in Spagna con oltre 30.000 impianti in soli due anni e qui è stato un grandissimo successo. Abbiamo fatto 18 tornei con oltre 1.200 partecipanti e da lì la novità del momento a livello di allenamento che è il funzionale, quindi il crossfit e l'allenamento fatto a postazione che permette ovviamente a tutti quanti di allenarsi anche in gruppo di 30-40 persone, ovviamente con tutti insegnanti bravissimi come i nostri. Abbiamo visto grandissima partecipazione e poi abbiamo visto tantissimo sociale e tantissima solidarietà. No, assolutamente, il fitness, lo sport non è il veicolo ideale per promuovere tantissime iniziative che vanno come in questo caso questa sera dalla moda, dal mondo del fashion, ovviamente alla cultura e al sociale. Tutto questo perché le nostre persone, i nostri studenti, sono persone attenti ai dettagli e sono molto sensibili e attenti alle novità. Grazie a tutti.